Kansas ha il destino nel nome. Nel cuore del Midwest americano, nella Bible Belt più profonda, questa cittadina da 900 abitanti, economia agricola e qualche pozzo di petrolio, è un laboratorio vivente di città ecosostenibile. Il 4 maggio 2007 un tornado si abbatte su Greensburg. In Kansas non è una novità, ma muovendosi a più di 20 miglia, allora la sua potenza è devastante e lascia sul terreno 11 vittime e una sessantina di feriti. E quando i superstiti, circa 1.500, escono dai rifugi di tutta la città, trovano questo edificio e poco altro. Il giorno dopo la decisione è trasformare la tragedia in opportunità. Così i cittadini si sono rassegnati a due anni di camper in un campo alle porte della città per ricostruire, secondo tutte le regole, dell'ambientalismo. A partire dalla produzione di energia, in paese si usa un mix solare, geotermico e eolico. Le fonti sostenibili non assicurano ancora l'indipendenza, ma la strada è quella ed è segnata. Vale per il municipio, per l'ospedale, per la scuola. I palazzi pubblici hanno tutti, per delibera comunale, un rating platinum, ovvero rispettano i più alti standard ambientali. Tutte le case sono state ricostruite seguendo modelli efficienti da un punto di vista energetico, materiali riciclati o prossimi, ovvero a costo ambientale zero per il trasporto, massima efficienza energetica, isolamento termico. Così usano il 40% di energia in meno rispetto alle normali abitazioni. Nell'immediato il termine green era intimidatorio, ma qui nell'America rurale siamo ambientalisti e abbiamo capito che se ci prendiamo cura della terra, la terra si prenderà cura di noi. Abbiamo chiaro il concetto di sostenibilità e per me essere verde ne è soltanto una parte. Liliana Facciali Pintozzi, Scheriggi 24, Greensburg.